Sembrata un po' la partita dell'anno scorso, solo che poi nel finale avete gioito voi. Lo chiedo anche a lei, forse direzione arbitrale che ha scontentato sia l'Atletico che l'Aquila? Ora solitamente non ne parliamo, però già la seconda volta che qui proprio in casa mi trovo costretto a dire che nelle scelte finali comunque sia le terne non favoriscono l'economia del gioco per nessuna delle due squadre. Perché comunque sia questo è un campo veloce, è un campo che si concede a delle transizioni se poi vengono squadre forti e attrezzate di qualità come l'Aquila che si giocano la partita a viso aperto come è successo l'anno scorso, ogni occasione è determinante, ogni lettura della terna ingire pesantemente perché poi vengono sventolati cartellini gialli che possono pesare nell'economia della gara perché permettono a una squadra o all'altra di veicolare il gioco nel momento con palla. E poi comunque sia un giocatore che nel momento senza palla sa di essere ammunito, difendere 50-60 metri e correre all'indietro e poi è condizionato. Quindi mi dispiace dirlo, non manco di rispetto, è semplicemente un'analisi, me l'hai chiesto tu e secondo me sì, ma non tanto da recriminare l'episodio singolo ma proprio la gestione e la globalità della condotta in una partita secondo me divertente e bella poi a un certo punto è diventata anche un po' spicolosa, maschia, però complimenti a loro che sono una squadra forte e completa e capace di poter giocare sia a campo aperto sia di ripartenza e soprattutto negli interpreti di deciderla in qualsiasi momento. e quindi adesso devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché questa partita sa di un punto importante non è una vittoria, siamo tutti a testa bassa perché sapevamo di poter fare qualcosa di più lo pretendevamo, lo volevamo fare e c'è il rammarico di aver vinto senza nulla togliere che comunque sia magari al netto del rispetto dell'avversario potrebbe sembrare un punto guadagnato per noi e due punti persi per loro. Mister, l'Atletico Ascoli che ogni anno durante il periodo estivo parte sempre a fare i spenti poi però dimostra il suo valore sul campo, ecco quando questa formazione, quando questo sodalizio potrà competere davvero per i primi posti, non solo in alcune parti della stagione? Io penso che l'Atletico tutte le partite gioca per vincere la partita, ha un'identità chiara non ha un vissuto né come società né come storia né come tifo né come città per poter ambire la vittoria di un campionato ma quello non ci toglie il sogno e la possibilità di migliorarci tutti i giorni, è una squadra che è partita con me il 17 di luglio è in costante miglioramento, ha un'energia positiva perché devo ringraziare i ragazzi che hanno una benegazione, un sorriso, una voglia di venire al campo tutti i giorni e per me la più grande vittoria, il più grande risultato è quello di vedere che tutto fila liscio dal lunedì al sabato, qua la domenica io sono il primo tifoso loro e mi emoziono mi lascia andare anche a volte a delle sultanze, a degli strilloni perché è proprio un piacere vedere che quello che uno prepara fa, anche oggi abbiamo preparato bene il tutto poi di fronte però non bisogna mai scordarci che di fronte abbiamo giocatori che hanno fatto categorie superiori, parlo di singoli e ogni squadra è infarcita di singoli interessanti non ci dobbiamo scordare che dietro ogni squadra che viene al Don Mauro Bartolini ha dietro una città, una storia, magari a volte anche ultracentenarie e quindi noi recitiamo il ruolo da Cenerentola e ci vorranno secondo me due o tre anni per prendere bene le misure, per far crescere un po' tutto il movimento e per portare la mentalità vincente che è quella della famiglia Giordani che incarna perfettamente il contesto atletico. Grazie mister, complimenti per queste belle parole, la aspettiamo nelle zone alte ci proveremo e ti ringrazio e stendi complimenti ai ragazzi perché alla fine i protagonisti sono loro e sono sicuro che è un gruppo che ha altri 3-4 anni per poter dimostrare di stare alto in classifica ma comunque sia di stare alto per loro anche in un proseguo di carriera e me lo auguro per loro vivamente fuori da questa Serie D.